salve a tutti oggi vi parlerò del secondo turno tra mirco de grandis e davide gemma in pratica i due prenderanno come apertura una 3n difficilissima ragazzi il bianco andrà subito fuori teoria probabilmente non conoscendola e il nero avrà una posizione troppo forte ma troppo forte ragazzi infatti vedremo che il nero può permettersi molte imprecisioni comunque l'apertura è la numero 168 3n 24 20 10 14 21 18 con questo cambio ovviamente il bianco non prende quella 25 perché già c'è il tiro ragazzi c'è un'apertura debolissima il nero fa la principale 12 16 qui il bianco cambia perché qua la principale è 23 19 con questo cambio per semplificare il più possibile ovviamente molto debole però qua il bianco ha un'impostazione punto d'apertura comunque fa 28 24 mossa debole e da qui il nero avrà sempre vantaggio comunque viene fatta 8 12 qui 29 26 6 10 mossa molto forte del nero poteva fare anche 12 15 per provare a incastrare questo punto comunque buona anche 6 10 26 21 qui il nero va avanti con 10 14 molto forte questa linea già attacca il punto dove il bianco ha sdamato viene fatta 22 19 in pratica il bianco sta invitando il nero a prendersi la meta per complicare il gioco il nero non ci sta muove 2 6 vuole mantenere ancora questa linea forte viene fatta 27 22 qui il nero 14 18 ora ho la presa con la 22 quello 21 è la stessa cosa perché comunque rientra una partita molto debole come vediamo il gioco del bianco è smantellato ora qui viene fatta al nero 15 e perde gran parte del vantaggio però vi posso assicurare che la partita ancora in mano del nero perché ha la posizione troppo forte cioè dal mio programma da un leggero vantaggio al nero però poi il vantaggio cresce mossa dopo mossa qui come mossa migliore da 9 13 il comunque la posizione gioca sul fatto che qui non si potrebbe fare 25 21 perché il nero semplicemente con 13 17 costringe il bianco a tappare perché se spinge in avanti gioca sul fatto che qua c'è un tiro una minaccia di tiro continua quindi la casella 18 in qualsiasi modo deve essere evitata al bianco a meno che ecco per esempio si facesse queste comunque è coperta dalla 21 però da qui la posizione è persa ora vediamo invece quello che è stato giocato in partita 15 qui 22 19 da parte del bianco 7 11 e mosse migliori 30 27 mossa migliore per minacciare qua il tiro ovviamente il nero copre con 4 8 qua 20 15 ora il nero minaccia questo tiro però con ripresa del pezzo il bianco non ci sta fa 32 28 e ragazzi ora vedremo che il bianco piazzerà tutti i pezzi al centro perché non può fare altrimenti mentre il nero riuscirà andare a dama ad attaccare dalle retrovie i pezzi del bianco 23 sì 10 13 cambio il bianco avanza con la 27 22 vuole impedire una damatura anticipata 3 6 il nero tranquillamente blocca questa struttura molto importante 25 21 poi viene fatta 13 17 21 18 e qui si va avanti qua adesso il bianco fa scappare via la 6 poi ovviamente qui la 6 sta minacciando un tiretto quindi il bianco deve evitarlo con 22 18 10 13 ed ecco che vediamo che il bianco resta con tutti i pezzi in mezzo alla scacchiera ora viene fatta 11 6 qui ecco in questo momento il programma suggerirebbe 28 23 e 24 20 chiudendosi al riccio qui comunque il problema è che il bianco qua avrà due dame contro 3 del nero comunque la posizione è persa quindi sceglie bene il bianco di fare 3 6 di provare qualcosa di diverso qui il nero semplicemente attacca qua adesso il bianco decide di dare due pezzi catturare cercare di giocarsi un finale pari 4 dame contro 4 ma il problema principale è che questi tre pezzi al centro non si difendono e la posizione è persa ovviamente i due non lo sapevano in gioco vivo almeno che cioè comunque hanno un'analisi molto forte ma comunque lo sbaglio è sempre dietro l'angolo e dei grandi se voleva tentare questa possibile soluzione e ragazzi pareggiare con una 3 n è molto molto importante per proseguire e per fare punteggio perché se riesce a pareggiare con una 3 n contro hai la possibilità il turno successivo di averla tu questa tren di provare a fare questi due punti molto importanti comunque qua il nero il nero è molto semplice qui il bianco si difende cerca di coprirsi in tutti i lati allora il nero viene con l'altra dama gioca una mossa d'attesa con 13 17 e poi attacca e dopo 14 10 il bianco si arrende grazie a tutti per la visione vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima